La quarta condizione attraverso la quale possiamo liberare la nostra coscienza è la gioia empatica, mudità. Il piacere che deriva dalla gioia per il benessere degli altri è opposto all'invidia. Mi piace considerare questo stato d'animo come mancanza di disinteresse verso gli altri che si può tradurre nel prendere una decisione che tenga conto anche dell'altro, a disposizione di tutti indipendentemente dalle circostanze. La gioia dell'altro potremmo definirla, la gioia del diverso da noi in tutti i sensi. La gioia altruistica è un sentimento di gioia simpatetica perché anche gli altri nelle nostre decisioni siano il più possibile felici pur non avendovi contribuito. Amo molto la traduzione di questo sentimento come risonanza con la felicità in se stessi e negli altri. La gioia empatica è anche tradizionalmente considerata la più difficile da coltivare dei quattro sentimenti. Non è sempre facile mostrare gioia e celebrare la felicità e il successo che può portare una nostra decisione agli altri, mentre magari noi restiamo da soli nella sofferenza. Spesso vogliamo che gli altri siano partecipi alla nostra sofferenza anziché essere noi partecipi alla loro gioia, ed è più facile di fronte ai successi altrui provare moti di gelosia e di invidia che sentimenti di gioia. Questa condizione ci consente di apprezzare le altre persone come esseri completi e complessi e non come personaggi del nostro gioco personale. In questo modo la gioia simpatetica è una sorta di prerequisito per agire compassionevolmente e la cordialità reciproca, una resa al naturale processo della mente, del cuore e del corpo che scorre verso l'esterno in tutte le direzioni, con il risultato di includere gli altri anziché escluderli. Quindi l'espressione chiave è la mancanza di disinteresse verso gli altri, la gioia del diverso da noi. Maestro Tetsu Genserra, l'incertezza è zen, Enrico Damiani, editore.